Sono le 9.12 del 10 maggio 2024. Questo è il monumento dei caduti, realizzato dal gruppo Alpini Sezioni di Trasacco. Ma la cosa più scandalosa e vergognosa è che qui hanno rubato l'aquila, sì, hanno rubato l'aquila. Qui c'era una bella aquila enorme, sicuramente di bronzo, esattamente lì, si trovava lì. A riprova da quando dichiarata Tommaso Pena, io due o tre volte l'anno, da anni vengo sempre a visitare qui, quindi produco questo video, qui l'aquila non c'è, vedete? Produco il video degli anni pregressi dove c'era l'aquila e una vergogna, pensate un po', poi a ricordo monumento dei caduti degli alpini, ecco qui. Ci troviamo qui l'aquila, non c'è più, ci hanno messo un sacchetto di plastica.